Immaginate di camminare in una piazza, magari a Copenhagen, di passeggiare e mentre passeggiate dalla terra, dai tombini che ci sono per terra, escono dei rumori che fanno paura, rumori che sembrano catene trascinate per terra, che sembrano il brontolare della pancia di un vulcano gigantesco che sta per esplodere e altri rumori che fanno pensare alle torture medievali. Questo è un po' il quadro che si è presentato a chi lo scorso ottobre, quindi ottobre del 2022, si è messo a passeggiare nella piazza che adesso non mi ricordo come si chiama, l'ho letta, comunque una piazza importante di Copenhagen dove un artista che ha lavorato insieme a una università ha preso i dati relativi al campo magnetico terrestre e li ha trasformati in suono. Non sono stata molto attenta durante le lezioni di geografia per capire, per sapere esattamente cosa sia il campo magnetico terrestre. Immagino che sia anche quella cosa che fa spostare le calamite. So che, perché l'ho letto in un articolo, è una cosa che ci protegge anche dal finire arrostiti dai raggi solari. Questo campo magnetico è una cosa invisibile. Se voi prendete due calamite una fianco all'altra non è che vedete i razzetti che escono dalla calamita col segno positivo per attaccarsi a quella col segno negativo. Però sono delle forze che indubbiamente esistono. Pensate anche all'elettricità. Non la vediamo però esiste. Non so come, però sono riusciti a trasformare i dati che misurano il magnetismo terrestre per renderli visibili e per renderli ascoltabili. Quello che ne è venuto fuori è un documento sonoro, appunto, incredibilmente inquietante e interessante. Poi ho scoperto che è stato presentato al pubblico danese in questa piazza di Copenhagen con un'installazione che è durata una settimana, dove letteralmente si faceva uscire da sottoterra il rumore, questo... vi metto il link così lo ascoltate perché è veramente molto bello. A quanto pare il rumore ha tracciato il modo in cui il magnetismo terrestre è cambiato nel corso degli ultimi centomila anni. Ripeto, io non sono una scienziata. Quello che mi ha affascinato e che sono sicura affascinerà anche voi è il rumore incredibilmente medioevale che fa il magnetismo terrestre quando si trasforma in suono.